Natale Salucci, ancora una volta l'Orizzonte Gera conquista un podio importante, conquista il primo posto all'Aquila, questa dimostrazione del fatto che ogni volta l'Orizzonte Gera va in altri siti, in altri liti, porta sempre una medaglia importantissima. Una medaglia importante per il gioco che hanno fatto i ragazzi, la conquista, la grinta che hanno messo e il gioco brillante, ma soprattutto la tattica che hanno applicato durante i quattro tempi. Abbiamo modificato per esigenze proprio dell'avversario, che cambiavano continuamente il modulo di gioco e noi abbiamo cambiato diverse volte, i ragazzi hanno alla lettera seguito questi cambiamenti, portando alla fine un successo veramente veritato. Avete arricchito così il vostro già ricco palmarès? Sì, questo ormai per noi non è più un problema di medaglie di primo o secondo posto. Per noi è importante migliorare gli aspetti sportivi che portano a un arricchimento a livello intellettivo. I ragazzi, da questo punto di vista, soprattutto in gioco di squadra, è importante la relazione che si sviluppa tra gli atleti e durante il gioco, ma soprattutto dopo e prima. Noi abbiamo fatto una trasferta con 16 ore di viaggio all'andata e 16 ore di viaggio al ritorno. E quindi durante il viaggio si creano quelle relazioni e quelle possibilità interattive che portano a migliorare non solo in ambito sportivo, ma anche in ambito familiare, nella vita sociale. Per cui è importante non tanto la medaglia, ma queste esperienze che fanno i ragazzi. Unica notata dolente è riconducibile al fatto che voi il prossimo mese dovreste partecipare ad un'altra iniziativa, ad un'altra tappa, che però non potete affrontare per mancanza di soldi. Se vogliamo lanciamo anche un appello a chi ci ascolta, se può darvi una mano. L'appello che vorrei lanciare all'istituzione è dare la possibilità dopo 20 anni di avere dei locali che l'associazione penso possa meritare e con i quali possa sviluppare nuovi programmi per i ragazzi per continuare queste battaglie culturali che hanno portato ai ragazzi a migliorarsi notevolmente. Io ritengo che questi cambiamenti, questi miglioramenti non sono solo relative al soggetto, alla famiglia, ma anche alla società.